San Leopoldo è tornato a Padova. Dopo la partenza da Roma verso la città Uganea, il santo ha fatto tappa a Loreto, Bologna e martedì è arrivato in città. Mercoledì mattina cerimonia nella Basilica di Sant'Antonio, dove l'arcivescovo Giovanni Tonuzzi, delegato pontificio per la Basilica e prelato di Loreto, durante la messa ha parlato di un miracolo. Lunedì, mentre San Leopoldo era a Loreto, una ragazza con una grave infezione alla mascella sarebbe stata guarita. La giovane, in attesa di intervento, sarebbe stata toccata al volto da un fazzoletto che era stato sulla teca e con stupore dei medici vi sarebbe stata la guarigione. San Leopoldo, nel pomeriggio, accompagnato da un corteo di fedeli, è tornato a Santa Croce.